Vi ho già portato un video con una sorta di mega riassunto di quello che è successo ieri durante la conferenza AMD quello su cui non ci siamo concentrati però nel video scorso, che potete trovare anche qui nelle schede è quello che è stato mostrato per pochi secondi, per poche slide da Lisa riguardante la nuova Radeon la scheda tripla ventola che è stata mostrata con tanto orgoglio dalla nostra cara Lisa a fine conferenza ovviamente perché avrà un evento dedicato il 28 di questo mese che ovviamente documenteremo e seguiremo quello che è stato fatto vedere di fatto dopo tutta la presentazione dei nuovi Ryzen è una serie di prestazioni, poche in realtà tre benchmark in particolare e diciamo che è stata proprio fatta vedere una roba a mordi e fuggi tre numeri in croce di tre giochi messi in testa in 4k con questa scheda che non abbiamo ancora un'idea precisa di come si camerà ma molto probabilmente si tratterà della 6900 XT quella che si è ipotizzata e che si è tanto chiacchierata negli ultimi mesi però c'è stata la conferma da parte di Lisa che si tratterà della serie 6000 Radeon quindi di fatto può essere che si tratterà della 6700, della 6900, non lo sappiamo e guardando queste prestazioni, quello che è stato mostrato diciamo per queste poche slide abbiamo visto come in 4k questa scheda riesca abbinata in quel caso, in quello che è stato mostrato a un 5900 X quindi un processore che di fatto non è ancora in commercio e noi non abbiamo ancora possibilità di utilizzare, provare eccetera per rimostrare un pochettino ed effettuare gli stessi test anche con l'hardware che abbiamo già a disposizione risultati questi, Borderlands a 61 fps, Gears a 73 fps e in quel caso Warzone Call of Duty a 88 fps che si avvicinano molto a quelli dell'80 la scheda che Nvidia stessa ha presentato come la flagship della linea da gaming delle nuove RTX 3000 quindi di fatto la scheda che in gaming è più potente diciamo di tutto il resto della line-up perché la 3090 appunto sempre da Nvidia non è stata messa nella categoria del gaming, delle schede da gaming quindi diciamo che in via ipotetica mettetela così poi ovviamente esiste anche la 90 quindi bisogna fare un paragone anche con la 90 perché è la scheda più potente della line-up però in via teorica la scheda da battere è questa questo ovviamente come potevamo anche aspettarci ha scatenato, questi tre numerini hanno scatenato le varie illazioni di tutte le testate di tutti gli influencer, di tutti quelli che parlano di questo argomento in generale c'è chi ha provato a rimettere alla prova la 3080 con hardware ovviamente equiparabile in questo caso perché si tratta comunque di test effettuati in 4K quindi la CPU per quanto nuovo il 5900X è potenzialmente più potente del resto delle CPU in commercio in ogni caso influisce poco sulle prestazioni quindi di fatto il 4K sgrava molto dalla CPU per cui provando a rigirarla magari con un 10900K o anche con una hardware di casa MD come i test che abbiamo effettuato noi di fatto puoi riemulare quelle prestazioni e rieffettuare i test con l'80 per vedere qual è lo scostamento con Gears e con Borderlands è stato semplice noi abbiamo rieffettuato i test con il 3900X che è ovviamente il processore appena precedente a livello generazionale al 5900X utilizzato da AMD e ovviamente Borderlands e Gears hanno di base un benchmark integrato quindi quello che è stato mostrato è chiaramente il risultato del benchmark effettuato su questi due giochi mentre Call of Duty essendo privo di benchmark è dipendente molto dalla route dal tipo di utilizzo che si fa del gioco per effettuare il benchmark quindi è difficilmente replicabile nella stessa identica prova che ha fatto AMD ma abbiamo voluto rifare lo stesso tutti e tre i giochi sulla 3080 i test li state vedendo in sovraimpressione in questo momento e vedete le differenze non sono poi molte a differenza poi di Call of Duty che come detto dipende molto da dove effettuate il benchmark e poi ci arriverò a parlare anche del risultato che abbiamo trovato noi sulla 3080 però gli altri due Gears e Borderlands non sono poi così distanti dal risultato che ha mostrato AMD per quanto riguarda Call of Duty il test che abbiamo effettuato l'abbiamo effettuato con i dettagli impostati con il preset a Ultra però il preset a Ultra non imposta tutti 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 i dettagli al massimo ad esempio Data Selection rimane ancora su un livello più basso che aumentando quindi mettendo effettivamente a mano tutti i dettagli al livello massimo riporta un risultato rispetto a questo benchmark che state vedendo di poco inferiore all'incirca sui 90-94 fps ora il video è chiaramente un riepilogo di quello che si sta verificando adesso online nelle varie testate perché tutti stanno effettuando gli stessi identici test e stanno riportando risultati molto molto simili quindi a quelli che abbiamo ritrovato noi a quelli che ha mostrato AMD per il confronto eccetera 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 è ovvio che è un video fine a se stesso perché la della scheda sappiamo veramente veramente poco per ora sappiamo come è stata testata perché AMD ha mostrato delle slide in cui veniva espresso appunto il processore con cui è stata testata le memorie erano 16 giga 30 a 3200 megahertz ma niente di più non sappiamo né se la scheda è la più potente della line up né come si chiama da cosa è composta la line up quali altri test andranno fatti che cosa cambia a livello di tecnologia interna alla scheda eccetera 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 e soprattutto punto fondamentale di questa sappiamo già tutto ormai di quella non conosciamo il prezzo che come al solito per AMD che si sta imponendo di fatto con dopo la presentazione di ieri sulla fascia di processori nuovi si sta imponendo col prezzo rispetto a quanto fatto in passato perché di fatto ha acquisito potere e anche autorevolezza da quel punto di vista con la fascia di schede video con la sua linea di prodotti legati al mondo delle schede video deve ancora fare un po' di strada per arrivare alla vetta come ha fatto con i processori e quindi in questo caso avrebbe senso adottare una strategia più aggressiva a livello di prezzo andando davvero a competere con la 3080 con un prezzo inferiore ma non di 5 euro 20 euro inferiore almeno di una cinquantina di euro in questo modo potrebbe davvero fare gola ma c'è un altro punto che nessuno ha preso in considerazione per adesso perché quelli che sono stati mostrati di fatto sono test che esulano dall'utilizzo con il ray tracing cosa che ovviamente ci aspettiamo ovviamente è stata riconfermata anche da AMD stessa che sarà presente sulla nuova linea di schede video Radeon quindi in questo caso non abbiamo ancora idea nonostante manchi veramente poco al lancio di come verrà utilizzato il ray tracing su queste schede e lo dimostra anche il fatto che i benchmark che avete visto sono tutti e tre giochi che non hanno il ray tracing implementato o perlomeno che non abbiamo ancora conosciuto con una versione ray tracing quindi insomma di cose da scoprire ce ne sono ancora molte però questo è stata una prova diciamo interessante per vedere a che cosa si avvicina questa fantomatica nuova scheda che è stata mostrata durante la conferenza di ieri fatemi sapere che cosa vorreste vedere cosa vi aspettate da questa nuova linea di schede Radeon e quanto vi piacerebbe pagarle in generale e cosa ne pensate chiaramente di quello che vi ho detto di quello che vi ho mostrato in questo video fatemi sapere tutto quello che volete qua sotto nei commenti io vi ricordo di iscrivervi lasciare un like se vi è piaciuto il video e noi come al solito ci vediamo nei prossimi giorni con tanti altri video ancora ciao ciao